Dopo non so neppure io quanto casino per ottenere un account canadese e riuscire a registrare dal mio grandissimo PC Oggi ho il piacere di annunciarvi il nuovo gioco della Supercell Cioè più che annunciarvi di avere la mia prima reazione e fare un primo gameplay su questo gioco Eh ma Musix, ma Brawl Stars fa schifo come gioco Mio caro bimominchia ancora non lo so perché non ci ho mai giocato né l'ho mai aperto Di conseguenza questa non lo so è la prima schermata e vado subito a cliccare sullo gioco e nulla Qui mi sa che devo mettere account e tutto il resto Ovviamente prima di iniziare vi dico qual è l'hashtag di oggi per essere salutati in un mio prossimo video dopo aver condiviso questo video E oggi l'hashtag in questione è hashtag nuovo E si perché comunque è il nuovo gioco della Supercell e quindi lo andiamo a provare non dico in anteprima ma quasi Ok questo credo sia il primo tutorial ragazzi non so se farvelo vedere oppure no Ragazzi mi trovo di una scomodità pazzesca a giocare comunque sull'iPad solo che per forza sta cosa devo fare Minchia ragazzi è brutto Cioè allora i comandi non mi ci trovo molto perché comunque è molto largo l'iPad E di conseguenza non lo so non lo so davvero Ok adesso dovremmo avere la super abilità o qualcosa del genere Ok clicco qui Porca miseria ma di che stiamo parlando? Va bene tipo l'esplosione dello scheletrone gigante Ragazzi ok credo sia tipo finito il tutorial E ovviamente io ragazzi sarò il mio Mushix Ovviamente sempre e comunque Mushix Questa è ufficialmente la mia prima partita Sì siamo con i bot La mia prima partita a sto gioco Posso sparare le casse? Non lo so vedremo subito Si spaccano? No non si spaccano ste cose Non so manco io cosa devo fare Raga attenzione aiuto Aiuto è molto più frenetico rispetto a Clash Royale credo E credo che questo sia un bot davvero super deficiente Ok ok a te cos'è un'imboscata? Un'imboscata attenzione Eh porca miseria Ok ok vieni vieni qua Vieni qua che ti spacco la famiglia Vieni vieni qua ok 800 di vita Ancora non moriamo Con sta cosa abbiamo di nuovo la super abilità Mamma mia mamma mia i big danni Ok conto down Ok devo difendere i miei amici Non devo morire Amici vi difendo io 12 secondi Amici miei Amici miei Oh porca miseria Ammazzalo ammazzalo Ok uno è stato ammazzato Prendi Prendi sta cosa Prendi la cosa Mamma mia l'uccisione La big uccisione Ok ok il match è finito Abbiamo vinto E io sono quella femmina con i cappelli Porca miseria Quella assomiglia un po' a zia Carmela Però manco tanto in effetti Ok la povertà più assoluta Abbiamo gemme Abbiamo che sono quasi tipo coin Le chips Va bene E l'isir E infine anche questo qui L'oro Vediamo un attimo Una schermata iniziale Molto molto simile Ovviamente a quella di Clash Royale Perché sanno che è una grafica che funziona Ci sono già i clan Tutta la roba sbloccata Le gemme qua per due Si comprano le gemme Quindi le gemme sono come quelle di Clash Royale Ovviamente Ma ragazzi io direi Quindi non so Si può aumentare sta cosa la vita Si aumenta Quindi l'upgrade si fa con l'elisir E come si guadagna l'elisir Non ne ho la più palida idea Va bene Andiamo qui Smash and grab Players found 6 su 6 Credo sia questa già la globale ragazzi E ripeto che non mi trovo molto bene Perché è super grosso sto coso Ok Adesso siamo effettivamente con Splayer veri Giusto Ah ok Dobbiamo prendere le gemme Che però stanno qui tipo a centro mappa Ok Ok Ammazza quella Ammazza quella Vai giù Vai giù Vai giù Ok Ok Impredittiva Impredittiva Vai 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 Ammazza Ammazza Questo è il mio amico Mità gemme se spacco sta cosa Non lo so Ammazzala Ammazzala Ammazza sta Ammazza sta troietta No quella è amico mio Quell'amico mio Ammazza sta troietta No 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 Si nasconditi 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 Ok ok Riprendiamoci la vita E dopo riendiamo all'attacco Ok 500 Va bene va bene Ok ok Dobbiamo ammazzare quelle brutte merdine Perché se ammazziamo le merdine In teoria dovrei prendere Oh Quante gemme Quante gemme Quante gemme Quante gemme Quante gemme Quante gemme Spara Si Si è morto Credo di averlo ucciso io sinceramente Non lo so Non lo so Spara 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 sta troietta No porca misera 4 3 2 1 Veloce Veloce Che manca una gemme Dopo possiamo subito Non lo so Ok ok Il countdown Il countdown Va bene va bene va bene va bene Vai spara spara sta troietta Spara la troietta Perché non si muove Perché non si muove sto coso Vai 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 Che c'ho anche C'ho il colpo C'ho il colpo della vita C'ho il colpo della vita Dai dai 14 secondi mancano Quella tizia Ok vado a prendere anche altre gemme Vai 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 Almeno così Ce l'abbiamo Così ce l'abbiamo Vai 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 12 Ne abbiamo 12 gemme Mamma mia Mamma mia Abbiamo vinto ragazzi La mia prima partita in globale L'abbiamo subito vinta Ah ok Con 100 riesco ad aprirmi una cassa Ok la prima cassa Un po' bruttina Preferisco le casse di Clash Royale Però tap tap Va bene ho tappato New Brawler È il primo È arrivato con una meteora Una super forza Credo sia molto Mili tipo Vediamo Nulla Da semplicemente la cosa Poi bisogna vedere Bisogna sperimentarlo Durante le partite Ok io direi addirittura Di farne un'altra Di partita Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Che cos'è sta coop Va bene È molto molto strano Probabilmente devo Devo abituarmi ai comandi Ragazzi Ah ok Ok Va bene Più o meno Più o meno raga Tutti con il primo stanno Probabilmente è il primo Che ti esce il primo E avrebbe Un non so che Di sensato In effetti Ok 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 vado qui Mi nascondo Mi nascondo Boom 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 Sono morto Ma che cazzo di schifo è Va bene va bene Ah ho 1300 di vita Quindi Che cavolo Ok io ho appena visto La mossa finale Tipo qui Boom Quanti danni Quanti danni Ammazziamolo Ammazziamolo che c'ha quattro cose Ammazziamolo si Prendiamo le sue gemme Prendiamo le sue gemme Va bene Qua stanno accumulando un po' troppe gemme Per i miei gusti Ok quello c'ha pochissima vita In effetti C'ha pochissima vita Secondo me con un solo colpo Tipo lo butto giù Io ho due gemme Vai 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 Qua Qua Dove sta Boom Non lo so se l'ho buttato giù Oppure no Vai Vai ammazzala No no Perché lagga E beh Lagga probabilmente perché c'ho l'account canadese Ma io non sono canadese in effetti Ok No 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 Ottavo No 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 Ammazzalo 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 Vai via Vai via Vai via Vai via Boom Boom Mamma mia Mamma mia Altri danni Altri danni Boom Di nuovo Di nuovo Di nuovo No Vai Si Si Forse l'ho ammazzata Si Ammazza pure quella Mamma mia Li stiamo distruggendo No No Avevo 18 milioni di gemme Porca miseria Ma pochissima vita Ma che cosa Ho fatto Non lo so manco io Che serie assurda Ammazza questa qua Ammazzala 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 No dove cacchio va a farmi sta roba Va bene Va bene Ammazzala Ammazzala No 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 Aiaia Aia Scompari 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 nella vita Scompari nella vita Non sanno dove sono Non sanno dove sono No No Ok 14 14 gemme abbiamo Abbiamo una Abbiamo tantissime gemme Possiamo farcela Possiamo farcela Ci stanno attaccando E vince anche la seconda Attenzione Sudatissima Sudatissima Star player Sono io il migliore Che combo ho fatto ragazzi Attenzione Che cavolo di combo ho fatto Non lo so manco io Mamma mia Mamma mia Tiratissima sta partita Cioè in effetti no Perché le abbiamo super Stracciati gli avversari Ho fatto davvero Un sacco di combo Un sacco di kill Molto molto frenetico Come gioco Il resto c'ho l'audio Totalmente disattivato Quindi non so se è bello Oppure no Ragazzi anche questo Sbancherà probabilmente Secondo me Perché comunque Ha il suo Ha il suo perché Questo comunque Era la mia prima impressione I primi I primi gameplay Le prime cose fatte Su questo gioco Credo comunque Due partite Fatte Due in globale Poi ho fatto tipo La partita con Con i bot E vabbè Ho sempre vinto Quindi boh O sono forte Oppure sono capitate Tutante delle schiappe contro E adesso non mi resta Che andare a salutare Alcuni tra quelli Che hanno scritto Corretamente l'hashtag E condiviso Il video di ieri C'è quello dell'altro ieri Che talmente si è addirittura In tendenza Quindi davvero Grazie mille Grazie a voi Siamo finiti in tendenza Quindi ciao Mario Orlandini Ciao Gino L'avvocato Total no sense Come nome E l'ultimo E stato di oggi È Sebastian Grandine O grandine Non lo so Che scrive Hashtag segreti Dai ho condiviso Ovviamente Non potevi essere estratto Se lo condividei Quindi Ciao Sebastian Se questo video vi piace Lasciamo un bel like Ma soprattutto Se volete Altri gameplay Su questo Tipo di gioco Su questo gioco Della Supercell Ovviamente Condivite questo video E scrivetelo qui sotto Nei commenti Iscrivete al canale Perché questo è tanto Ma davvero Tanto altro ancora E noi qui ci vediamo Magari In un prossimo video Ciao Ciao